Per essere testimoni di Gesù come Santo Stefano, il primo martire, dobbiamo comportarci come lui, pregare, amare, donare, ma soprattutto perdonare, perché il perdono è l'espressione più alta del dono. Così Papa Francesco ha parlato ai fedeli, prima della preghiera dell'Angelus, della testimonianza di Santo Stefano e del suo perdono prima di morire lapidato, come riportano gli atti degli Apostoli, che imita quello di Gesù sulla croce ai suoi aguzzini. Ma cosa serve perdonare? Si è chiesto il Pontefice e la risposta sta proprio nel martirio di Stefano, perché tra quelli per i quali implora il perdono c'è anche il giovane Saulo che diventerà Paolo, l'Apostolo delle genti. Paolo, spiega il Papa, nasce dalla grazia di Dio e dal perdono di Stefano e questo vale anche per noi che nasciamo dal perdono di Dio. Ogni volta che veniamo perdonati il nostro cuore viene rigenerato. Per questo, ha chiarito Francesco, se vogliamo avanzare nella fede, prima di tutto occorre ricevere il perdono di Dio. Non dobbiamo mai stancarci di chiederlo, perché solo quando siamo perdonati impariamo a perdonare. E da dove cominciare? Si è chiesto ancora a Papa Francesco. Innanzitutto dalla preghiera, come ha fatto Stefano. Si comincia dal proprio cuore. Possiamo affrontare con la preghiera il risentimento che proviamo, affidando chi ci ha fatto del male alla misericordia di Dio. Signore, ti chiedo per Lui, ti chiedo per lei. Poi si scopre che questa lotta interiore per perdonare purifica dal male e che la preghiera e l'amore ci liberano dalle catene interiori del rancore. È tanto brutto vivere nel rancore. Ogni giorno abbiamo l'occasione per allenarci a perdonare, per vivere questo gesto tanto alto che avvicina l'uomo a Dio. Come il nostro Padre Celeste, diventiamo anche noi misericordiosi, perché attraverso il perdono vinciamo il male con il bene. Trasformiamo l'odio in amore e rendiamo così più pulito il mondo.